Salve a tutti! Continuiamo oggi il progetto del carico elettronico con la parte relativa allo schematico. Per realizzarlo ho tenuto conto soprattutto delle considerazioni che abbiamo fatto nel corso del primo video e in sostanza abbiamo che il nostro carico elettronico potrà lavorare con tensioni massime di carico di 50 volt e una corrente massima che potrà passare all'interno del circuito di 10 ampere. Inoltre essendo che il carico elettronico che stiamo andando a costruire deve poter lavorare nelle tre modalità che ci siamo detti nello scorso video, per poter far sì che nella pratica questo poi avvenga è stato necessario prevedere degli elementi di commutazione nel circuito in modo da consentire agilmente il passaggio da una modalità all'altra. Quindi per comprendere meglio il funzionamento del circuito in ciascuna modalità sono andato a realizzare tre differenti schematici. Partiamo quindi col funzionamento del circuito in modalità current mode. Abbiamo in ingresso due generatori di tensione, uno indipendente è sempre presente nel circuito che è quello che alimenta la parte di controllo, mentre l'altro è il generatore di tensione che si trova sotto test. O per meglio dire rappresenta i due terminali del circuito in cui andiamo a collegare il nostro carico elettronico. Questo generatore di tensione quindi va ad alimentare il mosfet che sta funzionando nella sua regione lineare quindi come una resistenza e poi incontriamo la resistenza di shunt da cui andiamo a prendere il segnale di sensing. Questo segnale arriva in ingresso a questo amplificatore operazionale messo in modalità di amplificatore non invertente e grazie all'elevato guadagno della sua circuiteria di retroazione darà in uscita un valore di molto maggiorato della tensione che legge sullo shunt di corrente. La sua uscita quindi arriverà in ingresso a questo amplificatore operazionale messo in modalità di integratore che andrà a confrontare questo segnale con il segnale che leggerà da questo partitore resistivo ed è settabile a nostra scelta e quindi andrà ad effettuare un'integrazione sulla differenza di questi valori e darà in uscita il valore di tensione giusto per far sì che la corrente che passi attraverso questa resistenza sia proprio uguale a quella che noi abbiamo settato che quindi noi desideriamo avere in uscita. Quindi questa è la spiegazione di come funziona questo circuito. È un circuito molto semplice che già abbiamo incontrato nei nostri precedenti progetti e che regola la corrente che scorre attraverso il MOSFET con questo potenziometro. Da notare e da tenere a mente per la corretta comprensione delle altre due modalità di funzionamento che l'ingresso invertente di questo amplificatore è connesso all'uscita di questo amplificatore mentre il suo ingresso non invertente è connesso a questo partitore resistivo. Andiamo quindi a vedere come cambiano queste connessioni nella sua modalità di funzionamento di tipo resistivo. Ecco qui il circuito in modalità di funzionamento resistiva e possiamo notare come in questo caso il pin invertente di questo amplificatore è sempre connesso all'uscita di questo amplificatore mentre il pin non invertente questa volta è connesso a quest'altro partitore resistivo. E quindi la differenza adesso qual è? È che ai capi di questo partitore resistivo non c'è più una tensione costante come in questo caso ma vi è una tensione variabile e che dipende dalla sorgente di alimentazione. Quindi anche se noi non andiamo a modificare la posizione del trimmer quello che succede è che andando a variare la tensione varierà anche il set point dell'amplificatore operazionale. Quindi molto semplicemente andando a variare il valore di questo trimmer andremo a modificare il valore di resistenza equivalente vista ai capi di questo generatore di tensione. Ultima particolarità di questo circuito è che tra questi due nodi è presente un diodo ziner e ha la funzione di non far superare la tensione in questo caso pari a 5 volt al pin centrale di questo trimmer. Infatti essendo che noi abbiamo limitato questo carico elettronico con un valore massimo di corrente pari a 10 amver abbiamo proprio che quando per questa resistenza passano 10 amver l'uscita di questo amplificatore operazionale sarà settata in modo che sarà pari proprio al valore di 5 volt. Quindi se questo nodo salisse a un valore di tensione superiore a 5 volt in pratica si otterrebbe che la corrente che passa nel nostro circuito supera il valore di progetto di 10 ampere. E quindi inserendo questo diodo ziner noi andiamo a fare in modo che questa eventualità non si presenti. Però sarà anche nostra accortezza fare in modo che questo diodo non si accendi mai in quanto se entra in funzione è facile induire che il nostro carico elettronico non funziona più in modalità resistenza ma bensì ritorna a funzionare in modalità di generatore di corrente. Passiamo ora ad illustrare l'ultima modalità di funzionamento del nostro carico elettronico ovvero la modalità di generatore di tensione e possiamo notare che in questo caso il pin invertente di questo amplificatore è connesso a questo partitore resistivo ovvero quello che si trova a tensione costante mentre il pin non invertente si trova connesso a quest'altro partitore resistivo ovvero quello connesso alla tensione variabile. Inoltre di fondamentale importanza notiamo che questa volta in ingresso al circuito non c'è un generatore di tensione ma bensì un generatore di corrente. Quindi per poter utilizzare il carico elettronico in questa modalità è necessario che il circuito a cui lo andiamo a connettere si comporti come un generatore di corrente. Quindi com'è che funziona questa modalità? Con questo trimmer andiamo a settare il valore di tensione che desideriamo avere mentre su questo partitore resistivo andiamo a effettuare il sensing della tensione che attualmente abbiamo. Quindi questo amplificatore operazionare lavorerà in modo da far assumere il valore di resistenza giusto a questo mosfet tale da garantire una caduta di potenziale fra i suoi terminali pari proprio a quella da noi desiderata. Infatti bisogna ricordare che stiamo lavorando con un generatore di corrente. Quindi anche se la resistenza di questo mosfet cambia la corrente che scorre attraverso di lui resta costante e pari al valore del generatore. L'unica cosa che cambia sarà la caduta di potenziale ai suoi capi. Le particolarità e le pericolosità di questo circuito sono principalmente due. La prima particolarità è che come si può vedere non c'è nessun segnale di feedback che arriva dallo stadio di potenza del circuito. Infatti si può notare che il sensing fatto sullo shunt di corrente è interrotto. Seconda particolarità e pericolosità è che se venisse utilizzata questa modalità di funzionamento quando in ingresso abbiamo un generatore di tensione quello che succede è qualcosa di particolarmente grave. infatti come ci insegnano le basi di elettrotecnica è assolutamente vietato mettere in parallelo due generatori di tensione con valore diverso. Quindi quello che succederebbe se mettessimo il nostro carico elettronico in modalità generatore di tensione collegato a un generatore di tensione in pratica si ammetterebbe il passaggio di corrente infinita ed essendo che non abbiamo nessuna informazione proveniente dallo stadio di potenza quello che succederebbe poi praticamente è che o il nostro carico elettronico si distruggerebbe oppure si distruggerebbe la sorgente di alimentazione a cui lo abbiamo connesso. Quindi onde evitare questa eventualità in fase di realizzazione della scheda elettronica andrò a prevedere sulla linea di potenza la presenza di un fusibile di valore di 10A. Ho già realizzato il layout di come verrà lo schedino elettronico e per poi in pratica effettuare quelle commutazioni che ci siamo detti per passare da una modalità all'altra nel modo più agile possibile sono andato a raggruppare tutti i pin in questione in una singola parte della PCB quindi qui ci sarà il pin di sensing non invertente dell'amplificatore quello invertente e poi gli altri tre pin relativi all'uscita dei due partitori resistivi e all'uscita dell'altro amplificatore operazionale. Quindi poi utilizzando delle clip di cortocircuito a due pin come questa qui andrò di volta in volta a effettuare il cambiamento di collegamento per passare da una modalità all'altra. Molto bene quindi adesso non mi rimane altro da fare che iniziare a realizzare lo schedino. Molto bene per questo video è tutto alla prossima!